Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questa stavitosa puntata di L'Oletta 5 Channel. Oggi è esattamente il 21 marzo del 2022, guardate che splendida giornata, piove a Catania, come sempre d'altronde raga, tipo 10 giorni che ho fatto questo tempo di merda. E niente, si sta sdurubando il cielo, è l'una e io tra poco devo andare al lavoro che oggi faccio il pomeriggio. E niente, cioè va bene così, capisco. Quindi penso che chi andici però l'andata al lavoro. Nulla, aggiornamenti vari, come vedete i miei capelli da qui a un anno, vedo le foto ragazzi, mi faccio impressione solo, i miei capelli erano tipo qua. Boom, mi sono cresciuti di botto. Ora, siccome mi stanno crescendo di botto e vorrei comunque dargli un senso e una forma, se tutto va bene, non lo so, tra qualche giorno appena smondo dalla notte, vorrei andare dal parrucchiere. Quindi sistemarmi un po' questi capelli ad minchiam e farmi un po' tagli e piega, non so, un po' particolare. Sembro ovviamente ragazzi lasciarli lunghi perché li voglio lasciare lunghi. Ma diciamo dai appunto una forma. Poi, nuovi obiettivi, voglio comprarmi un cavalletto per dipingere, che sempre è stato un altro mio grande sogno, ma che per una questione di tempo, capricci e soprattutto denaro, non ho mai potuto comprare. C'è un negozio a cambio dove andavo io, dalla psicologa, che tipo vende tutta sta roba qui artistica. C'erano tanti altri negozietti a Catania, però purtroppo con la chiusura dell'accademia, quella principale, sono falliti. Quindi vado da questo qui, sempre in questi giorni, e vorrei avere il cavalletto quello in legno, quello tipo o grande o anche medio, per l'adulto, con comprare appunto un paio di tele e fare tipo dei quadri. E acquarelli ce li ho, però caso mai mi compro un paio di tubetti, un paio di pennelli, due tele, non so, faccio un po' di shopping di dipingere. Dice, dite voi, ma perché? Perché appunto, a parte che sono un'ex scenografa, mi è sempre piaciuto dipingere comunque fin da piccola con gli acquarelli. E poi appunto è un mio sogno avere il cavalletto a casa. Certo è di legno, quindi Albertino se lo rosicherà, quindi io lo metterò di là in cucina, come d'altronde tutte cose, e nel tempo libero dipingerò. Ieri, per la prima volta, qui nella casa nuova ho dipinto dei miei piccoli acquarelli, avevo, c'ho la mia agendina, piccolina, bello, grande, e ho dipinto in un foglio di carta normale il volto di questa ragazza con cui io mi sto vedendo. C'è un tempo, fa schifo. Cioè ragazzi, ma veramente? Io sono scioccata, devo andarmene al lavoro, come minchia me ne vado al lavoro. Mi conviene che anticipo che me ne vado ora al lavoro, ho aspetto che scamba. Non ho la più parida idea di cosa devo fare. E meno male, ripeto sempre, il cielo che sono qua a Catania. Alla fine vabbè, entro, mazzicco un attimo in macchina e me ne scendo. Ok. Non me lo sarei mai aspettato, sinceramente, perché proprio oggi non c'era tutto sto grande freddo. Però va bene così. Mi sono finiti di nuovo le bombole, in media ogni mese, ma perché sto facendo ragazzi troppo freddo. Troppo, troppo, troppo freddo qua a Catania, ragazzi. Da quando sono qua, che mi sono trasferita a gennaio, tutto gennaio è freddo, tutto febbraio è freddo, tutto marzo è freddo. Ah, poi ad aprile fanno tre mesi, che sto qua tre mesi di freddo. Pazzesco. E mi è finita l'acqua calda. Oggi non sono riuscita a chiamare il tizio delle bombole. Domani farò la notte, quindi di giorno sarò libera. E per forza domani lo devo chiamare, me le faccio portare due bombole di nuovo. Oltretutto, in questo periodo, e meno male giungerei, la benzina e le cose, come ben sappiamo tutti, a causa della guerra in Ucraina e della Russia è aumentata. Ma io, meno male che sono previgente, molto, molte settimane fa, con Gianmarco, ho fatto il pieno della benzina in macchina. Ci ho messo 50 euro e mi è bastato. Ancora ho quattro tacche. E per giunta ho girato, comunque, sono uscita, ho fatto avanti e indietro, mi sono andata l'altro ieri al poligono. Quindi un po' di stradina l'ho fatta, manco ho ben quattro tacche. Quindi top. La benzina è calata, per fortuna, quindi non ho dovuto spendere manco un euro di troppo. Niente. Comunque, il mese di marzo lo chiamerò il mese degli acquisti capricci di Iole. Perché ho speso ai ragazzi un botto di roba. Sono comprata la macchietta del caffè, come ben sapete, i vari gadget extra per la casa, il montalatte, quello per fare i toast. Tante cose che, comunque, in realtà non erano messe in previsione. Però va bene così. Ormai l'ho comprata. Questo mese mi è arrivato un bel mese di stipendio, quindi diciamo che ho recuperato abbondantemente tutti i soldini. E nulla, ora mi farò questo famoso portodarmi. Quando ci vorrò andare, ci andrò al poligono. Anche se non ci andrò magari spessissimo, però comunque, ripeto, con la cosa che portodarmi alla fine ne vale sempre la pena. Quindi questo sarebbe un nuovo sport, sparare. Andare lì e sparare. E dipingere. Perché appunto ora mi riprendo sto cavalletto e... Così. Mi metto a dipingere. Se vengono veramente dei bei quadri, me li appenderò. Anche perché in questa parete, una, due e anche tre, ho tre pareti vuote che comunque potrei mettere altre quadri. Sto spunnando praticamente come se non ci fosse un domani questa casa piena di puttusi, però va bene. Il quadro di mia mamma, ormai nominato così, che era la scena di Assisi con i girasoli e io praticamente non lo sapevo, me l'ha detto mio fratello. L'ho appeso, ragazzi, non là vicino al divano, ma qua di fronte al bagno. Perché? Non so perché, ma non credevo. Un quadro bello grande che mi è costato appunto 39,90, quasi 31 euro nel negozio là di vicino dei cinesi. Nulla. Ah, ecco, la cesta... Vi devo comprare la cesta dei vestiti, della biancheria. Cesta fantastica, wow, che ho comprato, ma sempre la... È rimasta là e quindi va bene così. Ora mi scrivo questa cosa. Se no ogni volta me l'ascolto. Niente, ho comprato un botto di roba. Ora ho tutto ciò che è veramente utile e necessario per la casa e per la mia futura casa che poi comprerò. Quindi comunque bene o male ho tutto. Niente, tempo di merda riguardo. Cerco di fare un altro po' di sacrifici, di soldini, di cose, ma ripeto, già ho comprato tutto ciò che è necessario. Ora qualche capriccetto sinceramente me lo vorrei passare. Qualche altro capriccetto in questo periodo. Anche perché se poi mi rinnovano non sarò più co-co-co e quindi prenderò molto di meno. Quindi avrò finito di fare spese e capricci. Mi manca l'ultima, le ultime due serie di omette di ormate. Ma l'ultima è indrovabile quindi non la prenderò. Quindi mi mancherà come due capricci. Comprarmi il cavalletto per dipingere. E l'ottava stagione di omette di ormate che adesso anzi mi prenoto. E basta. Bene ragazzuoli, con questi ultimi aggiornamenti. Questo video finisce qui. Mi sono messo già la felpa per il lavoro. Yolanda Os. Niente, sto caricando un bel po' di video. Sto facendo un bel po' di video. Adesso che sono a casa in questi giorni. E nulla. Ci vediamo quindi col mio prossimo video. Che farò un video riguardo quando cambierò. Look. Look.